Ciao nipoti, sono seduta qua a San Lorenzo, a Firenze, ma mi sto facendo mezzaluna qua di focaccia. Guai, cioè ci vuole un fisico bestiale per andare avanti a solo insalate. A me ha fatto veramente male per 25 anni farmi solo insalate. Adesso mezzaluna di pizza, alla sera anche tranquillamente. A pranzo ho fatto una baschetta di quei couscous maledetti, confezionati, un gelato. Questa mattina un caffè, macchiato. E sono a posto, un ingrasso, non dimagrisco neanche, devo essere sincera. Però non faccio più abbuffante, da quando questa è nella mia vita di nuovo, io non mi abboffo più. Ha un po' il mio segreto. Mi piacerebbe che funzionasse anche per voi, qualcuna mi dicesse, zia, porca miseria. Due minuti di pizza fanno benissimo. Vi bacio.